o lesia rostova non è purtroppo denis pipitone si pensava fino all'ultimo in tale situazione si pensava fino all'ultimo che o lesia effettivamente parlando fosse la povera denis pipitone ma purtroppo non è lei non è questa ragazza il test infatti del sangue va a spegnere ogni tipo di speranza e ogni tipo di barlume che potesse farci pensare potesse indurci a pensare che proprio o lesia poteva eventualmente essere denis pipitone non è denis ripeto il test il sangue certifica che non si tratta di denis ora mi immagino la povera piera maggio la moglie o meglio la madre della povera denis come potrà stare dentro sono convinto che sarà ancora peggio nell'aver saputo dunque nell'aver appreso che o lesia non è denis e quindi si spegne questo barlume di speranza che probabilmente fino all'ultimo la madre piera maggio ha avuto questo sarebbe quanto la notizia di oggi 7 aprile 2021 è un video questo di informazioni non nasce solo per informare eventuali persone non nasce per ledere la privacy di denis di o lesia rostova né di piera ripeto solo informare e basta grazie a voi utenti di youtube un saluto caro d'aleandro il narratore italiano grazie a voi grazie a voi grazie a voi